Ora è quasi 9, appena tornata a casa, sono distrutta, ma volevo fare una stories indirizzandola al nostro sindaco Sala. Volevo dire, caro sindaco, ma che categoria brutta è quella dei tassisti milanesi? Oggi ho preso tre taxi. In uno, sebbene io avessi prenotato con la carta di credito, il tassista si è rifiutato di farmi pagare con la carta di credito. E questa è la prima cosa. Rischiavo il sequestro se non tiravo fuori il conto. Nel secondo taxi c'era una tassista che ha parlato tutto il tempo del tragitto al telefono, peraltro di un argomento anche alquanto disgustoso, con un'altra tassista. Quindi c'era un'altra cliente che si trovava nelle mie stesse condizioni, sentendo parlare tutto il tempo questa donna al telefono del foruncolo che aveva dentro il naso. E nel terzo taxi ho aperto tanto così il finestrino, perché faceva una puzza incredibile, e il tassista mi ha rimproverato perché ho aperto il finestrino. Sindaco Sala, aiutaci tu. In una città come Milano i taxi sono fondamentali. Grazie. Per questa sera è tutto. Buonanotte influencer.